Nello scorso video abbiamo visto come si calcola il massimo comune divisore tra due o più polinomi Abbiamo visto che in realtà il tutto si riduce nello scomporre tutti i polinomi e prendere i fattori comuni presi una sola volta con il più piccolo degli esponenti In questo caso invece andremo a vedere il calcolo del minimo comune multiplo Vi dico già adesso che il minimo comune multiplo è fondamentale quando dovrete parlare di frazioni algebriche Come si calcola il minimo comune multiplo? Il procedimento è quasi lo stesso Bisogna scomporre sempre tutti i polinomi e prendere i fattori comuni e non comuni presi una sola volta con i più grandi degli esponenti Perché si prende i più grandi esponenti e si prendono i fattori comuni e non comuni? Perché ovviamente quando voi vi calcolate il minimo comune multiplo dopo dovete dividere questo fattore che avete calcolato per tutti i polinomi di partenza Quindi se voi non prendete il più grande degli esponenti e tutti i fattori comuni e non comuni non riuscite ad effettuare ovviamente la divisione Passiamo subito ad un esempio pratico perché in realtà questo argomento è abbastanza semplice da trattare Però dovete capirlo bene e soprattutto dovete avere un'ottima dimestichezza con la scomposizione dei polinomi Nel prossimo video vi farò vedere una tabella di riepilogo che vi permetterà di seguire diciamo uno schema ben preciso per scomporre i vari polinomi Ovviamente l'unico metodo oltre all'esperienza è conoscere tutte le varie forme di scomposizione Allora supponiamo di avere x al cubo meno 27 poi di avere x al quadrato meno Qui avevo scritto più meno 6x più 9 e poi abbiamo x al quadrato più x Beh allora come si fanno queste scomposizioni? Beh il primo rappresenta la differenza tra due cubi Quindi banalmente si fa x meno 3 che sono le due basi che moltiplica che cosa? Beh il polinomio ha tutti i segni positivi ed è il finto doppio prodotto Quindi x al quadrato più abbiamo 3x più semplicemente 9 Poi qui che cosa abbiamo? Abbiamo x al quadrato meno 6x più 9 Allora questo ovviamente è un trinomio notevole Però prima di procedere con il trinomio notevole bisogna sempre verificare se non si tratta magari di un quadrato di binomio Allora in questo caso è un quadrato di binomio perché abbiamo i due quadrati che sono x al quadrato e 9 E poi abbiamo il doppio prodotto tra x e meno 3 Perché meno 3? Perché qui c'è un segno meno al doppio prodotto Quindi è x meno 3 al quadrato E poi qui che cosa abbiamo? Beh abbiamo due fattori dove si può effettuare un raccoglimento totale In particolare si mette in evidenza la x e quindi ci tira fuori il seguente risultato x che moltiplica x più 1 Allora come si calcola il minimo comune multiplo? Allora si prendono tutti i fattori comuni e non comuni presi una sola volta con i più grandi esponenti Analizziamo questa x Questa x va presa non è in comune con nessun altro però va presa lo stesso con l'esponente più grande che è 1 Poi x più 1 non è in comune con nessuno ma va preso ovviamente così com'è con il suo esponente Poi abbiamo x meno 3 che è in comune anche con questo Ovviamente va preso una sola volta però con i più grandi esponenti Quindi x meno 3 al quadrato e poi va preso questo polinomio che non è in comune con nessun altro Quindi si prende con l'esponente che ha in partenza E ovviamente se voi prendete tutto questo fattore e lo dividete per tutti gli altri La divisione si può fare ed è quello che si farà con le frazioni algebriche Beh per completezza e per richiamo possiamo calcolare anche il massimo comune divisore Allora in questo caso cosa si fa? Si prendono i fattori comuni presi una sola volta con il più piccolo degli esponenti In questo caso non ci sono fattori in comune perché x meno 3 è in comune con questo ma non è in comune con questo E tutti gli altri la stessa cosa Quindi che significa? Che in questo caso il massimo comune divisore è 1 Però se supponiamo di voler fare il massimo comune divisore solo tra questi due Allora il massimo comune divisore è senza ombra di dubbio x meno 3 elevato ad 1 Perché x meno 3 è in comune con entrambi Il più piccolo esponente tra 1 e 2 ovviamente è 1 Con questo video abbiamo terminato Come al solito se vi è piaciuto metti un mi piace, commenta, condividi E ci vediamo al prossimo video